Teatro, musica, danza e circo, 365 giorni l'anno di spettacoli, un front office sempre aperto, un bar-ristorante operativo per tutti gli eventi, foresteria per accogliere le compagnie. Insomma, si apre tutto un altro mondo a Teramo. Inizia la nuova stagione artistica del Cineteatro Comunale, che sarà gestito dal prossimo luglio 2017 da Abruzzo Circuito Spettacolo. L'ACS è un'associazione regionale che svolge attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo e che si è giudicata alla gara promossa dall'amministrazione Brucchi per la gestione del comunale. L'ACS sarà un circuito culturale forte che rivoluzionerà la vita culturale di questa città, speriamo. Mi auguro di sì, la vita culturale è già presente però, perché è una città non vuota, è una città che ha grandi tradizioni, che ha un gruppo di sostegno molto forte. Sono amico di Silvio Alaglio, amico di Cocciolito, quindi è una città che ha delle grandi tradizioni, è una forza che ha mantenuto attiva la cultura. Voi portate la multidisciplinarità. Noi portiamo la multidisciplinarità e portiamo un'organizzazione, speriamo nazionale, di grandissimo livello e prestigio, con professionalità che si aggiungono alle altre. La direzione artistica generale dell'ACS è affidata a Eleonora Coccagna, che nel presentare il progetto di rilancio del Cineteatro Comunale di Teramo, promette di fare di questa struttura un luogo condiviso da tutti, fatto di spazi per gli animi e per la creatività. Un progetto ambizioso, lei l'ha chiamato un sogno, 365 giorni, l'anno, un teatro aperto, è pieno di attività, cambia tutto. Sì, cambia tutto, ma il merito non è soltanto nostro, dell'ACS, il merito è di tutto un movimento culturale che sta lavorando da anni, che sogna da anni un cambiamento, per cui io non ho fatto altro che seguire quella che è la volontà della città stessa. Quali saranno le novità principali? L'apertura, 365 giorni l'anno, il fatto di concepire il teatro non soltanto come una vetrina di prodotti, ma realmente come un cantiere creativo. Parliamo di residenze artistiche, di progetti di promozione delle realtà emergenti, di allestimenti per avere le anteprime anche di grandi classici teatrali. Insomma, un fermento anche creativo e produttivo.